È uno dei problemi, dei grandissimi problemi del nostro paese, però già il fatto di parlarne nelle scuole, cioè di cercare una strada almeno a livello teorico di approfondimento per l'appunto culturale, per far sì che i due mondi, istruzione e lavoro, possano in qualche maniera incrociarsi, credo che sia una buona cosa. Superare il mismatch, ossia letteralmente la corrispondenza mancata tra le competenze acquisite nel sistema di istruzione e formazione e il mondo del lavoro. All'Iceo Piero della Francesca di Sansepolcro, un intervento organizzato dall'associazione Trattevere d'Arno, che sta portando avanti nelle scuole e a retine un viaggio nell'educazione civica. C'era una platea cospicua, ben nove classi del quarto anno, che è proprio l'anno più importante, forse per cominciare a ragionare in termini di orientamento e di autoorientamento. Sono stati molto attenti, molto partecipi e il nostro intervento è stato suddiviso in due parti, una più teorica, più orientata all'educazione civica con un taglio relativo all'istruzione e al lavoro nel dettato costituzionale, nella nostra Costituzione e una seconda parte invece a carattere informativo su questa realtà emergente, sempre più importante, degli istituti tecnologici superiori per i quali vi è una vera e propria riforma in atto, di cui si parla molto magari negli ambienti di settore tra addetti ai lavori, ma non se ne parla forse abbastanza o nella maniera giusta proprio ai destinatari effettivi, cioè ai ragazzi. È evidente che su un palcoscenico così grande non è detto che sia arrivato a tutto, però secondo me lo stimolo di pensare che esiste anche un altro mondo che è istruzione, ma che porta anche prima al lavoro, visto la difficoltà a trovarlo, penso che sia giunta.